Tutti gli atti propedeutici alla realizzazione del nuovo ospedale di Andria sono stati compiuti. I fondi ci sono, dicono dalla direzione generale della ASLBAT. Ora si attende il riscontro positivo della regione per entrare nel vivo della programmazione. Ma in attesa che il nuovo presidio sanitario diventi finalmente realtà, c'è da restituire efficienza e sicurezza all'attuale nosocomio andriese, che in alcuni reparti necessita di interventi strutturali. Il direttore generale Ottavio Narracci annuncia che diversi lavori finanziati con i fondi articolo 20 sono stati già programmati. 1.300.000 euro verranno destinati alla rifunzionalizzazione delle unità operative di medicina e laboratorio analisi. 1.500.000 euro per la pediatria, 2.500.000 euro per l'adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, 1.300.000 euro per la sistemazione di diverse aree dell'ospedale che saranno individuate dalla direzione di presidio in accordo con la direzione strategica aziendale. La novità, sottolinea Narracci, rispetto a quanto già annunciato nei giorni scorsi, sarà la realizzazione della nuova dialisi. Tutti questi spazi che attualmente o sono vuoti come stesso piano o sono interessati da criticità sono oggetto di interventi che sono finanziati e il cui finanziamenti saranno pienamente utilizzati. A questo aggiungiamo anche il milione di euro che deriva da un finanziamento europeo per la nuova dialisi dell'ospedale di Andria. Nel mese di gennaio sarà bandita la gara di costruzione della nuova dialisi dell'ospedale di Andria. Quindi diciamo che tutte le risorse a disposizione per l'ospedale e anche quelle che abbiamo reperito da altre fonti di finanziamento sono in pieno corso di utilizzo perché ci siano questi lavori. Procede invece speditamente la riconversione degli ospedali di Canusa e Trani e la riorganizzazione territoriale dei servizi sanitari. La ristrutturazione sta procedendo. A Canusa ad esempio noi aggiudicheremo nelle prossime settimane la progettazione per il centro Risvegli che comporta lì la realizzazione di circa 40 posti letto con vari livelli di intensità per le gravi lesioni cerebrali acquisite. Fino a quando questo non sarà naturalmente noi terremo lì posti letto che sono ancora occupati da specialità tipo la lungodeggenza, tipo la geriatria, ma diciamo che comunque l'evoluzione è in pieno corso di svolgimento. A Trani per metà gennaio prevediamo lo spostamento dei reparti ospedalieri ancora presenti, la medicina interna Bisceglie e la gastroenterologia a Barletta e quindi da allora noi possiamo dare completamente a disposizione del territorio la struttura e quindi anche a Trani le cose evolvono secondo la programmazione prevista.